Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 16 dicembre 2021, il sole sorge a Fano, questa mattina alle 7.36 e tramonta alle 16.32, le giornate si accorciano ancora di più, come dico sempre in previsione del 21 dicembre, quando ci sarà il giorno più corto. Oggi si festeggia Santa Adelaide, vediamo un attimo la grafica, ecco la Santa Adelaide, facciamo una fuga nel Medioevo e nel territorio tra Francia, Italia e Germania. Santa Adelaide fu imperatrice, visse nel X secolo, sposò a 16 anni l'Ottario II di Provenza, ma ben presto però restò vedova. Fu allora imprigionata da Berengario di Ivrea, che la voleva sposa di suo figlio, ma ella non ne voleva sapere. Riuscì a fuggire dalla prigione con l'aiuto di Ottone, che poi divenne imperatore. Ottone sposò Adelaide a Pavia il giorno del Natale del 951. Adelaide fu un'imperatrice accorta, intelligente, generosa, favorì la riforma cluniacense e la morte del marito resse l'impero con grande saggezza avvalendosi anche dei consigli di Santa Adalberto. Insomma una santa oculata, una santa generosa che aiutò la sua gente e non la vessò con provvedimenti punitivi. E con questo passiamo alle notizie dei giornali questa mattina a partire dal Corriere Adriatico. Inquadriamo la prima pagina, ecco e vediamo il titolo di apertura. Si parla di sanità, ormai è un argomento consueto in tutte le giornate sui quotidiani. Vaccini, le critiche dei sindaci, carente la campagna, richiesti centri di prossimità, più dosi nei camper e maggiore efficienza negli hub. L'area vasta per le esigenze covid di Gallantara addirittura sospende la psichiatria a Pesaro, però aumenta i posti sia a Fanno che ad Urbino, corre personale. Il problema della carenza di organico nel settore della sanità è sempre più evidente. Vediamo la foto notizia centrale pubblicata dal Corriere Adriatico riguarda un progetto del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che prefigura una lunga passeggiata tra Via Branca giù fino alla palla di Pomodoro, sembra la Rambla pesarese. I tre titoli di apertura centropagina, a Pesaro due morti in A14, chiesto il processo per il camionista. A Pesaro filma un furto d'auto in chiodo e ladro per ricettazione. E ancora i primi trapiantati di Lucarelli fanno un regalo alla scuola, insomma vi ricordate i trapianti di Muraglia. Rifiuti, mancano impianti, la Confindustria va in pressing, è una delle prime uscite della nuova presidente provinciale della Confindustria, Baronciani, che dice come il sistema delle imprese, chieda risposte alla Regione, una questione di civiltà. Eccoli i teppisti, ovvero la peggio gioventù, non chiamateli bulli, ma sono dei veri delinquenti. Da Ancona a Pesaro, da Fermo a Macerata, il Corriere compie un viaggio nella preoccupante escalation di aggressioni, violenze e rapine per mano di giovanissimi. Sono spesso minorenni, ma si comportano come dei delinquenti consolidati. Vediamo qui alcune foto dei branchi che si aggirano nelle nostre città. Sono ragazzi che compiano qualcosa di più di atti di bullismo, come rapine, inganni, truffe, insomma sono dei ragazzi che devono essere educati, prima di tutto dalle famiglie e poi anche dalla scuola. Dalla noia sulle panchine alle uova contro il bus, svegliato da mia madre il ragazzo e l'assalto del 2016 finimmo dritti in questura. Ecco come il Corriere ricorda uno degli eventi significativi. Ma diamo un'occhiata anche a questa tabella. Vediamo che i centri di prima accoglienza per i minori nelle Marche hanno accolto nel 2020 il 50% di ragazzi italiani, il 25 invece era di origine marrocchina e il 25 croata. I delitti più frequenti commessi sono per il 60% furti e per il 40% rapine. I collocamenti nelle comunità private di minori e giovani adulti nelle Marche riguardano invece il 63% di italiani, l'11% dei cittadini del Marocco, il 4% del Congo, il 4% della Tunisia e altre etnie. Si dice che di solito sono gli immigrati, gli extracomunitari, quelli che delinquono di più. Non è vero. Sono i ragazzi italiani. In questo caso i reati spaziano dalla rapina, il 20%, al furto, il 18%, dalle estorsioni, il 12%, alle lesioni personali, l'11% e agli atti persecutori, l'8%. Un quadro su cui bisognerebbe riflettere. Primi reparti riconvertiti, la via in salita dei vaccini. 1.300 bambini sono prenotati per avere il vecino. Da Pesaro a Torrette fino a Iesi, così le aree mediche cambiano forma. Bandi per i nuovi hub. Chiesti 187 vaccinatori, per ora però ne arrivano soltanto 10. Ebbene, il doppio binario della sanità nella battaglia contro il Covid, se da una parte si lavora nella campagna vaccinale, ieri sono partite anche le prenotazioni per la fascia pediatrica, che va da 5 agli 11 anni. Dall'altra, gli ospedali stanno riorganizzando i reparti per farsi trovare i pronti nel caso che i ricoveri continuassero a salire. Omicron, qui non si è vista, il vaccino attuale non è il massimo per contrastarla. E questa è una dichiarazione di Stefano Menzo, che è il direttore del Laboratorio di Virologia degli ospedali riuniti di Ancona. Una figura esperta che afferma come ci siano, lo sappiamo ormai, delle criticità anche nelle vaccinazioni. Nasce l'acceleratore di start-up per aprire le vele del business. La Fondazione Marche presenta a C75 un contenitore destinato a far crescere nuovi imprenditori. Scegliere i migliori, sostenerli con fondi e tutor, poi spin-off e coinvolgere l'Univip, è il metodo per riuscire a risollevare l'economia che è sempre sotto l'effetto della crisi. Ed ora facciamo il focus soprattutto su Pesaro. E vediamo come la campagna dei vaccini così non funziona. Tre critiche dei sindaci. Ebbene, il Presidente della provincia ha scritto alla Regione, vediamo qui Giuseppe Paolini, a nome dei primi cittadini del territorio, sono richiesti i centri di prossimità, più dosi nei camper e una maggiore efficienza negli hub. È necessario riaprire i centri vaccinali di prossimità con una distribuzione adeguata sul territorio provinciale di Pesaro Urbino. Occorre una migliore organizzazione, dicono i sindaci, del servizio del camper vaccinale, spesso sprovvisto di dosi, ed è necessaria una più efficiente funzionalità degli hub vaccinali, oltre che nella gestione delle prenotazioni online e anche nella logistica del servizio per le file degli utenti in attesa. Sospeso ora il servizio psichiatrico per le esigenze covid di Galantara, serve più personale e quindi il centro di Pesaro viene chiuso e tutto viene trasferito nei centri di Fano e di Urbino. Lo ha dichiarato il responsabile dell'area vasta, Romeo Magnoni, così recuperiamo, ha detto, il personale, posti letto in più a Fano e Urbino. Ed ora giriamo la pagina, affrontiamo la situazione della scuola e vediamo che sono entrati proprio in questi giorni i nuovi provvedimenti per quanto riguarda la vaccinazione. Non c'è più la privacy, a scuola si scoprono insospettabili no vax. Prima si aveva l'idea degli insegnanti che non erano vaccinati, ora invece essi devono documentare il loro stato e quindi i presidi hanno l'esatto quadro della situazione. Il personale degli istituti ha ancora cinque giorni per vaccinarsi o prenotare la dose tra il 5 e l'8% gli irregolari, ma resta nel limbo chi si trova in congedo o in malattia e quindi chi è in malattia ovviamente non può vaccinarsi. Vediamo i due presidi più trasparenti della nostra situazione provinciale e sono il preside del Marconi Rossini e il preside del liceo Nolfi di Fano, Samuele Giombi. Sono entrambi che fanno un quadro della situazione e dicono qual è la situazione del loro istituto. Per esempio al Marconi abbiamo 20 no vax su 250 addetti e più cospicuo di quello che credevo, ha dichiarato il preside. Per quanto riguarda il liceo classico Nolfi di Fano, finora nove persone sono risultate senza il Green Pass su 187 insegnanti, quindi una realtà minima. Vogliamo impianti innovativi. La Confindustria preme sull'assessore regionale Aguzzi che è l'assessore all'ambiente. La Presidente Baronciani segnala i costi per le imprese dell'attuale gap infrastrutturale. Esportiamo milioni di tonnellate, ha dichiarato, e nelle discali che arrivano gli scarti di altre regioni. Nelle Marche non ci sono impianti sufficienti per la lavorazione dei rifiuti, quelli urbani e quelli industriali. E questo è un costo in più, non solo per i gestori del servizio, ma anche per il sistema produttivo. Confindustria, sulla scia del dibattito dei giorni scorsi sui rifiuti giunti da San Marino, solleva il tema e chiede alla Regione un cambio di passo. L'interlocutore, ovviamente, è l'assessore Aguzzi. Ed ecco l'articolo che riguarda il progetto della Rambla, così viene definita dal Corriere Adriatico, della Rambla pesarese. Ricci ci crede, la statale sarà interrata per superare la divisione tra Via della Repubblica e Via Rossini. Il Red Ring illustrerà l'idea di creare una lunga passeggiata da Via Branca alla Palla di Pomodoro e il tunnel nella statale fa un passo avanti. Quindi non si attraversa la statale adriatica, la statale 16, insomma, in superficie, ma si va sotto. E questo è l'articolo di cronaca che riguarda lo schianto che si è verificato in A14 con due vittime, purtroppo. Il PM chiede il processo per il camionista. È un giovane leccese di 24 anni, accusato di aver provocato questo incidente, costato la vita il 7 febbraio scorso, a Federico Tonin ed Elisabetta Barbieri, nonché il ferimento di altre due persone. Quindi dovrà andare davanti al giudice. Vediamo ancora il giornale e siamo sulla pagina di Vallefoglia. Ruba un'auto, si schianta e fugge. Fermato poi, peraltro, la scoperta, tutto in 12 ore. Un 27 accusato di ricettazione è stato incastrato dal video di un residente. Non è stato fortunato, diciamo così. A Urbino, CNA e Uniurb, una questione di feeling. C'è stato un incontro e si è stabilito un rapporto nuovo con le imprese. Un meeting tra i dirigenti e il rittore Calcagnini. Al centro i fondi del PNRR servono specificità formative. Ebbene, il progetto è quello di costruire un rapporto nuovo e più intenso tra università e imprese. Un'università che deve creare i quadri dirigenti. A Fano abbiamo delle dichiarazioni dell'opposizione. Per quanto riguarda la partecipazione del bando che è stato pubblicato per il digestore. Abbiamo qui tre esponenti significativi delle minoranze consigliari. Abbiamo il Gianluca Ilari della Lega. Abbiamo Lucia Tarsi dei Fratelli d'Italia. Abbiamo Tommaso Mazzanti del Movimento 5 Stelle. L'ASET è credibile per i grandi partner. Infatti quattro sono state le adesioni a questo bando e si tratta di adesioni di grande imprese a livello nazionale. E le opposizioni rivendicano il successo di aver avviato il processo e incalzano il primo cittadino ad andare avanti. Insomma, si aveva molte perplessità. Soprattutto la sorpresa. È stata, forse non tanto sorpresa, la non partecipazione di marche multiservizi. A Fano non aumentano le tariffe dei servizi comunali. Lo ha dichiarato l'assessore al bilancio, Sara Cucchiarini, nel presentare il bilancio triennale preventivo che si appresta ad essere approvato dal Consiglio Comunale. La copertura media delle spese dei servizi a domanda individuale è del 63,89%. Quindi è la percentuale che pagano gli utenti, i cittadini, per usufruire di questi servizi. Il resto lo paga il Comune con il suo bilancio. Ieri è stato inaugurato il Bosco dei Neonati. Già messi a dimora 365 alberelli. L'area è quella di Bellocchi, nei pressi di Via Toniolo. Una cartolina con tutti i nomi dei piccoli venuti da luce tra il 2020 e il 2021. E quindi una coppia potrà adottare un alberello, perché quello è l'alberello che crescerà così come crescerà il suo bambino. Quindi una bella iniziativa. E domani si presenta un libro, un libro particolare, un libro composto con gli articoli di Alberto Berardi. Lo si presenterà nella sala di rappresentanza della Fondazione alle ore 17.30. Ci sono vari interventi. È un modo per ricordare un fanese illustre che nei suoi scritti ha ricordato e ha evidenziato il contributo di tanti, tanti cittadini fanesi. Ha segnato un bonus di 35.000 euro destinato a 15 associazioni locali. Vediamo ancora l'assessore a bilancio Cucchiarini che parla dei contributi della Giunta a 741 anno, il minimo dell'Africa chiama, a 4.910 a Sportfly. E qui ci sono tutte le associazioni che hanno beneficiato di queste provvidenze. E poi il Corriere parla di un appuntamento importante. Oggi alle ore 17.30 ci sarà un convegno di carattere economico nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, un convegno in cui la Banca d'Italia presenterà il report sulla economia regionale. E vediamo qui il Presidente dell'Associazione che ha organizzato questa iniziativa, Mario Pelonghini. L'appuntamento alle 17.30 con la presenza anche del Vice Presidente della Giunta regionale Mirko Carloni nel Centro Studi Economia e Territorio. Pergola è pronto il Distretto Sanitario. Ecco i servizi nella nuova sede. Da oggi una rinnovata operatività a Pergola. Sospensione per il trasferimento solo per due giorni. L'attesa dunque è finita. È operativo da oggi il Distretto Sanitario in via Molino del Signore all'ingresso della città lungo la strada 424. E veniamo ora al resto del Carlino. Vediamo i titoli di sintesi in prima pagina. Allarme personale chiude psichiatria è il provvedimento che parte da Gallantara, chiude Pesaro, incrementa invece i posti letto a Fano e a Urbino. L'Asur costretta a riorganizzare il Dipartimento per reperire risorse di personale da impiegare a Gallantara. Clown, dottori per i vaccini. Ebbene, sono i dottori simpatici che accoglieranno i bambini che dovranno vaccinarsi per rendere meno drammatica questa piccola loro esperienza. e poi vediamo due articoli di cronaca sulla spalla. Ruba un'auto, poi si schianta e un residente riprende tutto, ne abbiamo già parlato. Lei non vuole che vada a ballare la salsa ed è stata picchiata dal suo partner. E Ancona, zona gialla sicura dopo Natale, purtroppo il Covid aumenta, mi preoccupa l'inverno ed una dichiarazione del presidente della regione Acquaroli. Le nuove regole, obbligo vaccinale nelle scuole, il 10% non è in regola, questo a livello regionale. Dosi ai bimbi, nulla da temere e negli hub arrivano i clown, dottori. Sono state 245 le prenotazioni in provincia per la fascia tra 5 e 11 anni, 1.311 in regione, poco sopra l'1%. Si parte oggi a Durbino, poi toccherà a Muraglia. Il pediatra Arcangeli, la malattia grave è rara ma esiste, quindi l'invito è quello di vaccinare i bambini. La pandemia ha fatto tanti danni ai piccoli, io vaccino i miei due figli, non ho dubbi, è una dichiarazione di Valentina Carboni che qui vediamo con i suoi due figli di 5 e 11 anni. Obbligo vaccini, a scuola il 10% non è in regola, via le nuove restrizioni per il personale del mondo dell'istruzione, il preside Riccardo Rossini, ecco la situazione nelle superiori. E c'è anche una dichiarazione dei sindacati, in questo caso di Sonzini della CGL Vasciolto, ha detto il nodo di chi si trova oggi in malattia e che non può ovviamente vaccinarsi e non può nemmeno essere sospeso perché non è sua colpa. Contagi e ricoveri salgano zona gialla più vicina, è un titolo preoccupante ma purtroppo è la realtà. Declassamento delle marche dopo Natale, questo è quanto si prevede. Acquaroli dice è inevitabile ma non anticipo le restrizioni, mi preoccupano i prossimi tre mesi e sono quelli di gennaio, febbraio e marzo. Nelle regioni già in giallo la curva pandemica non si è abbassata. Questi sono i dubbi che sollevano gli amministratori. Galantara scoppia, l'Asur chiude psichiatria. Da ieri l'attività è stata sospesa per consentire di recuperare personale da destinare alla RSA. I posti saranno recuperati a Fano ed Urbino. Anche il resto del Carlino interviene su questa dichiarazione del responsabile di area vasta. Qui c'è ancora un articolo per quanto riguarda i parcheggi al San Decenzi. Ora si stringono i tempi. Ieri c'è stato un incontro tra il sindaco e gli imprenditori che devono realizzare 250 posti auto. È la Tecnovul società di edilizia leggera che farà la sede sull'Interquartieri. Lei non vuole che vada a ballare. lui reagisce e la picchia. È una questione di gelosia. Lui vuole frequentare una scuola di ballo. Ovviamente lì conosce tante altre donne. Lei è molto gelosa e una peruviana inveisce e lui per reazione la malmena. È stato denunciato e ora dovrà andare davanti al giudice. Una vicenda di maltrattamenti delle donne. Una vicenda che sembrano non abbiano mai fine. caos ospedale e sanità mal di pancia nella base del Partito Democratico. Il problema della sanità è stato al vertice di un incontro tra alcuni veterani del Partito Democratico di Pesaro e il sindaco Matteo Ricci. Sono i cosiddetti grandi elettori. Sono andati dritti al punto. Ci interessa, hanno detto, soprattutto la sanità. Noi non riusciamo a prenotare una visita. Ne avrò una dermatologica che sono costretto a fare il 29 luglio ad Ascoli Piceno alle 19 di sera. questo è un caso emblematico di come funzionano le prenotazioni sanitarie per quanto riguarda gli esami diagnostici. Gradara, il nuovo ufficio IAT battezzato da Quaroli. sappiamo quanto è importante il turismo per questo castello medievale che sorge in un monticello tra Pesaro e Cattolica e vediamo come il turismo ovviamente viene incrementato anche dalle informazioni dalle guide dalla promozione che si fa per tutto il territorio per tutta la provincia. Giriamo ancora la pagina e siamo nella pagina di Fano e vediamo come si parla ancora del guasto all'impianto di riscaldamento del liceo classico Nolfi la maledizione del Nolfi ora scatta la dad non c'entra però il covid c'entra il termosifone che si è rotto a causa di un guasto l'impianto termico circa 500 liceali sono stati lasciati a casa i lavori sono continuati e continuano ancora oggi parte ritorno a scuola parte rimane a casa intanto il progetto del nuovo istituto è un mistero insomma difficoltà per questi ragazzi ancora vediamo a fondopagina del Carlino la presentazione del libro con gli scritti di Berardi che si avrà domani nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano e vediamo qui tre esponenti due esponenti della opposizione uno della maggioranza che parlano dell'ASET come pedina dei colossi pur di scampare a marche multiservizi insomma ha dato un appoggio alle tesi della opposizione il successo del bando per il digestore con la presenza di quattro grandi imprese a livello nazionale e poi si parla anche di ciclovia Fano-Urbino il comune tenta la volata diversamente da quanto prevede il progetto regionale il comune di Fano insiste per quanto riguarda la ciclovia nei pressi della ferrovia e dopo la cancellazione da parte della regione del progetto originario l'amministrazione fanese stanza due milioni per recuperarlo ma c'è l'incognita delle ferrovie dello Stato e qui la querela la questione si protrae all'infinito voglio segnalarvi prima di chiudere una bella notizia i Babbi Natale pronti a riprendere la corsa dopo lo stop forzato del 2020 causa la pandemia torna la maratona benefica in costume basterà il Green Pass base per partecipare è un'iniziativa che si svolge domenica mattina con partenza da barchi e arrivo a piagge vedete qui in questa fotografia quanti Babbi Natale con le loro tute rosse partecipano erano le edizioni passate ovviamente a questa bella corsa il tutto a fini benefici l'intero ricavato delle iscrizioni andrà a favore dell'Unicef dell'Avis dell'Ail dell'Urucundu un'associazione quest'ultima che sostiene le popolazioni del Burundi e siamo in conclusione vi dico soltanto i titoli di sport l'Avis andrà ad Ancona a giocare a viso aperto il Fano puntella la difesa Carcalis ha firmato il terzino destro il primo rinforzo del mercato di riparazione per sperare la risalita in classifica e per quanto riguarda il basket vediamo una dichiarazione di Camara Banchi ci ha cambiato la mentalità ebbene con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata a domani a domani a domani Grazie.